NINCIA Ciao Nick Dimmi tutto Non ho una skin di desil Porco che schifo ragazzi E io come faccio a giocare con gente così povera Ninja Devi scioppa Quella è la world bait Esatto No Really Io non gli ho messi night Dov'è? Arriva Lascia stare ho panicato Ho panicato malissimo Ti ho salvato Ti ho salvato Perché l'ho fatto cagare sotto sei contento Sono contentissimo Ah è andato back Ok Ma io sono meglio di skin che manco le Q e mezzo centimetro Dai Di nuovo Mi odiano Vabbè ragazzi basta in top E Darius Cosa ti aspetti Sono morto Farmalo Staccalo Non l'hai staccato Eh lo so Ringrazio che mi sono salvato di mortacci tua Chi tanca così tanto questo coso? E perchè full AP c'è la cosa La passiva che è gigantesca Bravo Grazie Devo dire che è molto complicato farmare con Natus Ah Premi e i minion muoiono perchè sei full AP Vabbè allora svela tutti i segreti subito Non lo so io Nemmeno un attimo di gloria Quanto stack 33 fai schifo? E vabbè tanto non mi servono Becca c'è il suo red Arriva Tiro una E qui ECCAAA Aiuto Ecco Mi sono morto pure io Non ha tirato neanche Leal Porco due non sono riuscito a tirare niente su cosa? Dai Dai muo perdo la torre mid per colpa tua Muo beh Darius si fa 4 kill R R R What t'ha fatto? Mi perdo i peperoni mari Cosa ci ha fatto? Darius snake lo sai come funziona Darius Ma guarda lì Ricordati come funziona Darius E' bilanciato? Vabbè me lo ricordo però Insomma No No Vabbè Oh no E' morta E' morta pure Ashe Ha fatto in perdita se non erro una 4 kill eh Una è peggio Allora vediamo un po' cosa comprare Il R'ly hai detto? R'ly o Lichbane come vuoi Uno dei due Lichbane E' morta No Venga E' morta E' morta C'era E' morta E' morta E' morta E' morta No dai Peccato fosse stato un nasone Normale da avessi fatto tutti e due Nella vita Uno deve capire se vuole fare Il nasone normale o il nasone prorompente Io sono un nasone prorompente Capito? Un nasone pirla Come? Come? Pirla? Non si dicono queste brutte parole ninja Mi dispiace che rimase un po' rallentato Giusto un cicinino Sei pronto per l'insect fail? Sono già pronti Buono Poderoso Si può dire poteroso In chat Si Ah Ah ma lì c'era ancora la tua Non avevo il kick Poderoso 2 Ah 57 minion di coup Perfetto La tua coup farà malissimo Si si Oh mio dio Ma perché questi stanno sempre in due? Andate a uccidere lei Poi dove entrava? E ci può essere Dove l'ho assito Dove l'ho assito? Oh Ecco veramente Come hai fatto? Non lo so Ninja 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 Ottimo L'ho protetto Oddio E dai però Sto stunatissimo Sennò devo gustare Dai si Vi rompo di DPS Dai Non fa danno Lì Ho notato Ok Non posso dire Arrivati a questo punto Potremmo avere un problema Ovvero sia che tu sei inutile Oh oh Non è vero Devo solo fare un po' Un kick Su Ash Magari non sono Su Blizz Eh il culo che c'avevo più vicino Non è vero Eh Noi siamo un po' troppo lontani però Il tuoi filato Quasi ora ti uccide Quella che hai dato troppissimo Vabbè non c'è neanche il Ghost Non c'è il Flash Né niente Non ha Exhaust Non ha il Flash Non ha Leal Easy Ghost Così devo workjumpare Dai che dovevi farmare quella torre di Q Non sei un vero nasone Non sei un vero nasone Non lo so 224 più 66 Sì Farma Oh che bravo Che so Come ti sei sentito a farmare quello Abbastanza bene Do Quanti non ti dai quel lecarino wow Bene Ho sentito un aereo o sbaglio? No non sbaglio Ah è al 16 Quindi ho deciso C'è la mia Davido Eh guarda quante maestrie sono partite qui Wow Non ci credo Se vede a me Seco finito 666 No sono morto all'ultimo Allora Se ti schifo Non è colpita Grazie ninja Ti voglio bene anche io Grazie a tutti